In forma senza spostarsi da casa con ITV Fitness, il nuovo programma di espansione TV al via a partire da oggi. La trasmissione prevede due allenamenti al giorno con i migliori trainer che spiegano gli esercizi e le tecniche in televisione. Chi vuole restare in forma o rimettersi in forma in modo originale e divertente potrà affidarsi ai TV Fitness. Due gli appuntamenti quotidiani da lunedì a sabato alle 8.30 e alle 18.30. allenamenti, consigli ed esercizi direttamente in salotto sul televisore di casa, dalla palestra Eracle di Como. ITV Fitness, il programma per chi è attento alla salute e al benessere, per chi ama muoversi con i consigli dei migliori allenatori. Tecniche differenti ma sempre alla portata di tutti. Le puntate potranno essere viste on demand anche sul sito di ITV e sul canale YouTube dell'emittente.